Il Comune di Napoli dispone di 13 biblioteche comunali che nei mesi scorsi hanno ospitato gli eventi dell'iniziativa Più Spazi Più Tempo, incontri con scrittori, registi, studiosi. Luoghi di riferimento culturale, soprattutto per i cittadini più deboli, ma anche di aggregazione e di vita sociale, le biblioteche locali costituiscono un'autentica diga contro l'imbarbarimento, afferma l'esperta Antonella Agnoli, un'indispensabile infrastruttura democratica che accoglie tutti i cittadini e facilita l'accesso al sapere. Il catalogo delle biblioteche cittadine, che dispongono anche di libri in braille, è consultabile online sul sito del Comune di Napoli. Pensiamo ai ragazzini che passano le loro domeniche andando su e giù come degli zombie nei centri commerciali, a me piacerebbe che passassero le loro domeniche in un luogo dove magari possono anche incontrare anche dei videogiochi, utilizzare i computer per contattare gli amici in Facebook, ma questo avviene in un luogo che è gratuito, in un luogo comunque circondato da oggetti culturali, in un luogo che non è un luogo commerciale. Martedì 29 maggio, nella biblioteca La Briola di San Giovanni a Teduccio, sarà presentata un'iniziativa di collaborazione fra il Premio Napoli e le biblioteche cittadine, che diventeranno spazi di riferimento per i comitati di lettura del prestigioso riconoscimento letterario.